Buona Ah, sì, ma dove siamo? Ma sul Monte Golgotha, no? Ah E perché? Perché ci hanno presi tra pochissimo tempo io e te? No Buona A messa, ci vai? Ma sì, battezzato, comunione e chiesa No, ma dico, in chiesa, la domenica mattina, a messa, ci vai? Sì, battezzato, comunione e chiesa Ma è il trittico praticamente Non viene Ma sì che viene Ma non viene, piantala, Santo Dio Ah, no? Tu, Santo Dio, non lo puoi dire se non ci credi Io invece che ci credo lo dico Santo Dio, Santo Dio, Santo Dio, Santo Dio E l'ha detto anche lui Ma chi lo conosce questo qua?